Una navetta al servizio degli studenti degli Alburni e del calore per raggiungere le scuole di Rocca d'Aspide del Vallo di Diano. Dal settore viabilità e trasporti della provincia di Salerno arriva l'ok all'istituzione del servizio navetta per velocizzare i tempi per il raggiungimento degli istituti scolastici e superare i disagi e difficoltà dovute alle frane che negli anni hanno martoriato il territorio degli Alburni isolando le popolazioni locali. L'ente provincia con una nota inviata ai comuni interessati, ossia Ottati, Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Bello Sguardo, Roscigno, Sacco, Laurino e Piaggine e all'azienda di trasporti Pecori che ha dato la disponibilità di effettuare il servizio navetta con mezzi adeguati ha annunciato la rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico assicurando la disponibilità della copertura finanziaria per sostenere la presenza della navetta fino al 31 dicembre 2019 utilizzando come si legge nel documento risorse derivanti dalle economie dei servizi aggiuntivi dell'anno 2018 e con l'inserimento delle ulteriori risorse per coprire l'anno 2020 nelle richieste da inviare alla regione Campania per i servizi aggiuntivi. Secondo quanto emerge il servizio rivolto agli studenti delle aree degli Alburni e del Calore favorirà il collegamento tra Roscigno e il di Corletto Monforte dove si congiuncono la SP 342 e la SS 166 e il Roscigno e il bivio di Bello Sguardo. Collegamenti che fin qui venivano coperti con mezzi propri dagli studenti di Roscigno che erano costretti a farsi accompagnare fino al bivio di Corletto per poter usufruire del trasporto di autolinea. Con il provvedimento a firma del responsabile del settore Domenico Ranesi prende il via l'organizzazione del nuovo servizio che allenterà le difficoltà dovute all'isolamento a seguito delle frane. Un risultato che è stato accolto con grande favore oltre che dai sindaci del territorio anche dal consigliere provinciale Giuseppe Ruberto che ha voluto ringraziare il presidente della provincia Michele Estrianese, il delegato dei trasporti De Nicola, il dirigente del settore dei trasporti ranesi e la ditta Pecori per la disponibilità. Questa spiega Ruberto una risposta che grazie al lavoro di squadra siamo riusciti ad ottenere ma di criticità e problematiche riguardanti il trasporto e la viabilità purtroppo il nostro territorio ne ha ancora da risolvere. Dobbiamo essere uniti e compatti sempre.